Bella a tutti ragazzi, io sono Jenny Siamo sul secondo panel Scusatemi se fanno cosa Allora ragazzi, faccio tutto in fretta e furia Perché prima di tutto si sto registrando tutto quando li seguito Ve l'ho già detto Allora ragazzi, è la terza volta che provo a registrare lo stesso video Come vedete ci sono due sconfitte Perché la prima Avevo registrato Stavo vincendo 2-1 Ho perso l'imposo 3-2, l'avevo dominata A fine video mi accorgo che non mi ha registrato niente Cioè mi ha registrato solo la mia faccia Poi registro la seconda partita Stava tutto bene C'è un'interruzione telefonica E ho dovuto rimandare la partita Ho dovuto quittare perché oppure non ce la facevo in tempo Quindi ragazzi Ci vediamo al gioco Cioè che devo dirvi Ok ragazzi, adesso sono su FIFA Allora, la serie consiste nel scegliere Cioè, non è spesso il lotto di viso umano Però è squadra di campionato Scegliendo squadre con sotto le 3 stelle e mezzo Soltanto io adesso scelgo la Svezia A chi ho poi di nuovo il Real Madrid Vabbè È meglio che non ve lo spiego perché voglio fare tutto in fretta Ragazzi, scusate se vi porto solo una partita Ma come vi ho detto sto avendo problemi Cioè ho avuto questi vari problemi E se adesso succede qualcos'altro Non me ne frega Io ve lo faccio vedere nel video Real Madrid-Svezia Prima partita Anzi terza Però prima partita Di questo Nuovo campionato Vede la Svezia Squadra di Non so chi Ad affrontare il Real Madrid Il Filatonno Mamma mia Che stecca Intanto la messaggia C'è Limboviso su FIFA Per il telefono Porco Dio Cristiano Ronaldo Ragazzi 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 M'avete visto Vai Scatta Ibrahimovic No invece no Scott Grande Durmaz No vabbè ragazzi Ragazzi Avete visto Avete visto Ma che schifo di squadra è Questo è un gol No quello di Cristiano Ronaldo Tre vuoti Tre Cambiamo squadra Io mi vado a scegliere L'Everton A quanto bene Andiamo in Anzi no Italia Ci siamo in Palermo Ok Matchmaking Eh FIFA Esiste il matchmaking Eh Belotti Belotti per Dybala 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 quanto è forte sto giovane Ragazzi Ragazzi Calcio di rigore Grande Palermo Mi piace di più Dybala 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 Mi piace di più Mi piace di più Puoi fare di più Di più Da Prela Belotti Dybala 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 E la merdata con Machino 2-0 Palermo 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 Che squadra Cento volte meglio Della Svezia Ma quanto è forte sto Palermo Per ancora il Palermo Con Dybala 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 è ancora la merda La data di Dybala E Machino Che è 3-0 Chiude la partita Machino Con una bellissima doppietta Due merdate Machino Cosa vuoi fare? Non è che per caso vuoi quittare? Facchiera Mamma domino assoluto del Palermo Ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un mi piace Condividete Commentate Iscrivetevi E ragazzi vi dico una cosa E questo video Lo sto registrando appena ho finito di registrare il video Perché mi sono accorto che comunque Allora io a fine video Avevo detto che Di quella registrazione che avete visto di questa partita C'è stata una parte Che non vi ho fatto vedere Dove avevo detto Che l'ultima parte della partita Non ci sarebbe stato il video Invece ora che vado a controllare Mi ha registrato tutta la partita Tranne i minuti finali Allora invece di farvi vedere la parte dove ero triste Perché non mi aveva registrato la partita Vi faccio direttamente un nuovo video C'è un nuovo piccolo clip Dove vi dico che questo video è finito Ciao a tutti